il muco cervicale tutti lo hanno visto nessuno sa chi è eppure è uno degli indicatori più importanti più economici e più semplici da monitorare per la salute femminile in questa serie di tre video ne parliamo meglio ciao ragazze io sono anna di medulla e sono felicissima di avervi qui in questo secondo video seguiremo l'evoluzione del muco in un ciclo in salute se vi siete perse il primo video potete cliccare sul link che compare qua sullo schermo per non perdervi i saperi fondamentali e seguire meglio il muco cervicale segue un modello coerente per tutte noi partirà timido avrà un suo momento di gloria per poi ritirarsi come una marea ciò non toglie che siamo tutte diverse non solo i geni anche l'età e i fattori ambientali possono incidere e dunque una stessa persona potrebbe notare dei cambiamenti durante il corso della propria vita ma il modello resta lo stesso per tutte noi per seguire l'evoluzione del muco ci baseremo sul classico ciclo di 28 giorni ma ricordate un ciclo in salute può durare tra i 23 e i 35 giorni quando maturo dunque se avete meno di 25 anni o più di 40 il discorso può cambiare e potete trovare più informazioni su un articolo del mio blog quando il ciclo è irregolare che dovrebbe anche comparire linkato qua sullo schermo e ora cominciamo partendo dal principio del ciclo la mestruazione giorni 1 4 nulla in questo momento l'estrogeno e il progesterone sono al loro minimo storico e dunque la cervice non produce muco facile il muco non c'è la percezione che avremo sarà di bagnato caldo giorni 5 8 da nulla ad appiccicoso nei giorni immediatamente successivi la fine della mestruazione l'estrogeno comincia lentamente a crescere e dunque il muco comincerà a fare capolino tuttavia è possibile che nei primissimi giorni dopo la fine delle mestruazioni tu non lo veda né lo senta addirittura quando ti pulisci potresti anche sentire una sensazione di secchezza e dunque un po di attrito mano a mano che i giorni passano ecco che il muco comincerà a potersi vedere se lo tocchi avrà una consistenza collosa grumosa appiccicosa come in queste foto il colore tenderà al biancastro giallino e decisamente opaco giorni 9 11 cremoso opaco umido dopo qualche giorno di assenza o di estrema collosità ecco che il muco ora apparirà sempre più abbondante di consistenza cremosa ma pur sempre opaca la percezione che avremo sarà di crescente umidità l'estrogeno sta salendo sempre più velocemente giorni 12 14 trasparente elastico bagnato nei giorni immediatamente precedenti l'ovulazione la produzione di muco aumenta in maniera esponenziale grazie al picco di estrogeno che si verifica proprio in quei giorni lì ora il muco sarà abbondante di consistenza elastica trasparente filante a volte è talmente liquido che è come acqua e dunque scompare e non riusciamo a vederlo oppure ha una consistenza simile a quella dell'albume la chiara d'uovo cruda la sensazione che proviamo alla vulva è di bagnato fresco sdrucciolevole come oliato morbido estremamente bagnato comunque è una sensazione decisamente diversa da quella di semplice umidità provare per credere se lo guardiamo al microscopio il muco in questo momento ha i famosi canaletti rampe di lancio di cui vi parlavo nel video 1 se state provando ad avere un bambino questo è il momento propizio per agire questi canaletti sono detti in gergo motivi a felce infatti questa foto ci sta facendo vedere non la pianta bensì proprio il nostro muco al microscopio durante questa fase di estrema fertilità strano ma vero anche la nostra saliva in questo momento ha esattamente lo stesso motivo a felce come vedete in queste fotografie che vi fanno vedere l'evoluzione dal momento di non fertilità al picco di fertilità in comune con questa pianta il muco ha un estremo amore per l'acqua il motivo è semplice l'estrogeno in questo momento è molto alto dicevamo no e l'estrogeno ritiene acqua nelle cellule avendo così un effetto tensore e creando appunto questi canaletti giorni 15 26 da cremoso a nulla nelle ore immediatamente successive all'ovulazione il muco cambia in maniera repentina già a 24 48 ore dall'ovulazione ha ripreso una consistenza cremosa appiccicosa viscosa e opaca se lo guardiamo al microscopio il muco avrà un aspetto di reticolato inestricabile dove gli spermatozoi non riescono a nuotare questo perché il progesterone ha un effetto rilassante e dunque i canaletti si sono afflosciati su se stessi in questa fotografia potete vedere da una parte le rampe di lancio sotto l'effetto tensore dell'estrogeno e dall'altra l'effetto rilassante e contraente del progesterone mano a mano che i giorni passano e il progesterone cresce il muco potrebbe scomparire completamente e potrebbe ritornare una sensazione di nulla o addirittura di attrito giorni 27 28 da nulla a cremoso pochissimi giorni prima della mestruazione ovvero del prossimo ciclo il muco potrebbe rifare capolino questo è perché alla fine del ciclo se non c'è gravidanza i due ormoni ovarici estrogeno e progesterone cominciano a scimare se il progesterone che è più abbondante scema più velocemente dell'estrogeno ecco che il muco rifarà capolino è una situazione molto comune che non deve testare allarme e con questo siamo arrivati alla fine di questo secondo video sul muco cervicale spero che vi sia piaciuto io sono qui per rispondere alle vostre domande che potete lasciare nei commenti qui sotto e se non volete perdervi il terzo video sul muco dove vedremo come decodificarne i messaggi di allarme potete sottoscrivervi con il bottone rosso qui sotto ciao ragazze grazie di essere state qui ci vediamo presto prendetevi cura